Di Maio chiede di rinviare la ratifica di questo accordo, lunedì Conte verrà a parlare alla Camera, lei che cosa pensa? Io intanto penso che non so dov'era Di Maio, ma dov'era Di Maio? Quando il MES è stato negoziato Di Maio era governo, era vicepresidente del Consiglio. Questo modo di fare politica è un modo indegno di un grande paese. Non si fa politica in questo modo, il paese non viene rappresentato in questo modo. Si sollevano i dubbi, tutti i dubbi sono legittimi, nel momento in cui si negozia, stando in Europa. Questo scaricabarile di Di Maio e Salvini dimostra che non possiamo dire agli italiani che la loro scelta è tra Salvini e Di Maio, perché non è tra Salvini e Di Maio. L'Italia è un paese serio, pieno di gente che si fa due spalle così tutti i giorni per lavorare, per combattere. Io provo indegno che noi dobbiamo metterci a scegliere tra questi due. Ma in quale altro paese la gente negozia un accordo internazionale e poi quelli che l'hanno negoziato alzano un polverone per dire che è sbagliato? Ma perché quando l'avete negoziato non l'avete detto? Cosa facevate? Dormivate? Eravate in giro per l'Italia? Eravate sulle spiagge a bere mojito? Qual è il punto?